Lettura, Vangelo, e Commento Dal libro del profeta Geremia I nemici del profeta dissero, venite e tramiamo insidie contro Geremia, perché la legge non verrà meno ai sacerdoti, né il consiglio ai saggi né la parola ai profeti. Venite, ostacoliamolo quando parla, non badiamo a tutte le sue parole. Prestami ascolto, Signore, e odi la voce di chi è in lite con me. Si rende forse male per bene? Hanno scavato per me una fossa. Ricordati quando mi presentavo a te, per parlare in loro favore, per stornare da loro la tua ira. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i dodici discepoli e lungo il cammino disse loro, Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché venga deriso e flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà. Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse, Che cosa vuoi? Gli rispose, Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. Rispose Gesù, Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono, Lo possiamo. Ed egli disse loro, Il mio calice, lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali il padre mio lo ha preparato. Gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse, Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. Come il figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore. Lode a te o Cristo. Commento. Ciao a tutti e contento di essere qui anche oggi insieme a voi per stare un pochino insieme per riflettere sul Vangelo. Cominciamo come sempre con il segno della croce e nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, oh Spirito Santo, dentro di noi, nel nostro cuore e nella nostra mente e accordaci la tua intelligenza perché possiamo conoscere il Padre mediante la parola del Vangelo. Il Vangelo di oggi è un Vangelo particolarmente difficile per noi perché Gesù svela ai suoi discepoli ciò che sta per succedere, che dovrà quindi essere condannato a morte, consegnato ai pagani perché venga deriso, flagellato e crocifisso e il terzo giorno risorgerà. Nessuno però sembra preoccuparsi della sorte di Gesù, di una realtà che Gesù e anche loro stanno vivendo, il parallelismo dei giorni nostri, un parallelismo della nostra vita. Ci preoccupiamo di tante cose che però non sono poi la realtà che noi viviamo. Allora, dice il Vangelo, si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e prostrandosi gli chiese di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Cioè credo che sia importante fare un attimo di riflessione su questa parte in un momento davvero difficile dove Gesù sta per, anzi, ha svelato a tutti loro quello che tra breve succederà, ciò di cui si preoccupano è la loro posizione, la loro carriera, il loro ruolo all'interno di ciò che sta per succedere. E la madre di Zebedeo appunto fa questa richiesta a Gesù. Gesù la guarda e dalle parole possiamo comprendere che cerca di fargli capire ciò che sta chiedendo, dicendogli, facendola rinsavire, dicendo proprio, voi non sapete quello che chiedete, puoi tu bere il calice che io bevo? Ecco, fa così partecipi i figli di lei a quello che sarà il martirio sulla croce. Ora, gli altri non si preoccupano di ciò che sta per accadere a Gesù, ma piuttosto guardano i due fratelli sdegnandosi per ciò che loro avevano chiesto. Ecco, dobbiamo cercare di comprendere come a volte la nostra vita è proprio così. Qualcosa sta per succedere, ma noi guardiamo la nostra vita con un'introspezione miope, cioè non comprendiamo una realtà più ampia di quello che ci circonda, ma cerchiamo di badare a quello che è il nostro resoconto personale. Allora, come dice il Vangelo, gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono, ma Gesù, nella sua misericordia, gli dice, non sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono, ma tra voi non sarà così. Quindi di fatto mette di fronte gli apostoli a un cambio totale di mentalità ed oggi, in questa quaresima, la Chiesa ci propone in questo tempo proprio questo stesso cambio di mentalità, cioè Gesù capovolge le visioni umane e terrestri dei Suoi discepoli e apre un nuovo orizzonte per una comprensione totalmente nuova che ci porta a un nuovo modo di vivere la vita. Le nostre tendenze naturali ci suscitano il desiderio di dominare e di comandare sia le cose che le persone, di dare ordini e speriamo che tutto ciò che abbiamo intorno faccia ciò che a noi piace. Questo è uno status di posizione che noi vogliamo riconoscere in noi stessi e vogliamo che gli altri non li conoscano. Gesù ci propone addirittura l'opposto, inconcepibile per noi. Lui appunto dice che il primo dovrà essere servitore e schiavo di tutti. Questo è un passo che va oltre quello che è l'essere umano nel suo modo di vivere. Essere schiavo, come Gesù ci chiede, è impossibile per noi, rimane fuori dalla capacità della nostra portata. È qualcosa che ci viene donato e in questo passo del Vangelo Gesù lo dona ai figli di Zebedeo. Dice voi berrete questo calice, cioè farete ciò che io farò sulla croce. Ma avevano davvero capito ciò che avevano chiesto? E noi abbiamo compreso quindi che l'uomo che non vive per servire è un uomo che anche non serve per vivere. Abbiamo compreso che la carriera che Gesù ci prospetta è una carriera che va al contrario rispetto le nostre mentalità. E questo essere schiavo, così come Gesù ci chiede, è impossibile per noi. Rimane fuori dalla nostra capacità e dalla nostra volontà. Dobbiamo quindi pregare, implorare e desiderare che in questa quaresima, utilizzando quindi questi tempi forti che la Chiesa ci dà, con il digiuno, con l'elemosina e con la preghiera. Dobbiamo cercare di chiedere per poter ricevere questi doni, come vengono quindi anche elargiti ai suoi due amici. Ed è qualcosa che avviene per grazia. È per noi un Vangelo duro che ci fa riflettere e ci fa guardare dentro noi stessi e ci fa vedere il mondo con gli occhi di Gesù, un mondo che ci appare capovolto. Io ringrazio tutti di avermi seguito fin qui. Un abbraccio e che la benedizione del Signore ricada su tutti i vostri cari. Ciao e ci vediamo presto. Se questo video ti è stato utile, con poco puoi sostenere questo canale. Scopri come nella descrizione e ricorda che insieme possiamo diffondere fede e speranza. Con gratitudine, Daniele. Grazie.